Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per veicoli in avaria tra BV1 Variante e Sasso Marconi, per traffico tra Valdarno e Incidare Gello, tutto in direzione nord. Sulle Firenze e Mare un chilometro di coda per veicoli in avaria tra Alto Pascio e Lucca Est nella carreggiata verso Pisa. In FIPILI per lavori, rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze, in carreggiata opposta tra Ginestra e Montelupo. Ricordiamo che per lavori l'uscita di Montelupo è chiusa per chi proviene da Firenze fino al 16 settembre. Sempre in FIPILI per veicolo fermo o in avaria, coda tra San Miniato e Santa Croce in direzione di Livorno. Muoversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.